Grazie, grazie, grazie. Il tempo stringe e allora mi concedo, mi concedo con l'ultima invitazione che è quella che quando Simone mi ha presentato è quella che mi ha permesso di vincere l'Oscar europeo in effetti sonori. Io vi ho detto questo progetto per la prima volta in Italia, portato nella prima volta in Italia grazie a questa invitazione qua. Adesso vi chiederò cose, chi la vuole fare lo fa, chi non no, ma provate a chiudere gli occhi.